Siamo stati credo anche molto attenti nel non favorire strappi tra le organizzazioni sindacali perché qualche volta riduttivamente leggiamo, questo ci addolora, che la Cisle e la Will hanno detto di sì e la Cigelle no. La Will non ha detto di sì, la Will ha detto ci sono alle condizioni date alcuni punti che facendo sindacalisti abbiamo portato a casa ma sappiamo che rispetto alle piattaforme unitarie c'è molto ancora da fare e che l'azione del sindacato si comporrà di tanti pezzi quindi facciamo quella che è la nostra tradizione, cioè i riformisti. Facciamo il lavoro sporco, il lavoro duro come abbiamo fatto in Fiat e in altri posti per preservare delle cose per cercare progressivamente di rimontare la corrente e di recuperare delle cose.